un lino finissimo certificato european flex si mischia con una viscosa certificata fsc e un lurex sottilissimo utilizzando una tecnica di sfumatura molto particolare che permette di avere un effetto ottico di fasce delicate e degradanti leggero come una garza di lino con un titolo 14000 lo si lavora la macchina 12 creando capi raffinati dai volumi ampi avvolgenti che con semplici lavorazioni rasate con piccoli movimenti di struttura colpiscono e sorprendono in cartella sono rappresentati molti dei toni realizzabili con un minimo di 8 kg contattateci se avete esigenze di ulteriori tonalità